Il trono di spade è scomodo, chi ci si siede sopra è inevitabilmente destinato a tagliarsi. E chissà cosa ne pensa Edoardo Rialti, neoeletto traduttore italiano della clamata saga letteraria di Giorger Martin, ora che sul trono ci è seduto lui. Sì, perché Rialti, autore della traduzione di Fuoco e Sangue, l'ultimo nato in casa Martin, arriva dopo la prematura scomparsa di Sergio Altieri, traduttore ufficiale della saga. Un'eredità importante, quindi, che ha appena trovato compimento con la pubblicazione di un libro interamente dedicato alla famiglia più potente dell'universo martiniano, i Targaryen. A parlarne è stato lo stesso Rialti durante la tappa veronese della presentazione del libro, organizzata dalla casa elettrice Quiedit. È stata un'enorme emozione, una grande gioia, un grande onore, perché Martin è stato tradotto da un grandissimo traduttore italiano, Sergio Altieri, che è stato un amico, un maestro, proprio perché non pretendeva di esserlo, e questi sono i grandi veri maestri, a cui io devo tanto in termini personali e che è, insomma, di partito troppo presto. E quindi io ereditavo questo compito importante su cui lui ha dato un contributo fondamentale, però si trattava di una cosa stilisticamente diversa, proprio perché ha uno stile che vuole essere quello di una finta cronaca storica, bisognava restare al tempo stesso solenni, come potrebbe essere appunto un cronachista medievale, un Dino Compagno, un Giovanni Villani, però al tempo stesso capaci di rendere le varie correnti stilistiche, perché è un libro che si apre ai linguaggi dei bassi fondi, alle oscenità dei giullari di corte, all'essico militare, quindi è stata una grande sfida e come sempre nelle grandi sfide le cose più difficili sono anche le più belle. E ora, a pochi giorni dalla messa in onda dell'ultima stagione della serie tv tratta dalla saga letteraria Il Trono di Spade, non potevamo esimerci dal chiedere a Rialti qualche pronostico sul capitolo finale, perlomeno quello televisivo. Io ho sempre amato i cattivi, io ho sempre ti fatto per i Lannister, perché nessuno conosce la solitudine dei malvagi, dei malvagi di successo, c'è una così dolorosa solitudine che io ho sempre amato, è in tutti i grandi villain, da Sauron agli altri, e quindi in realtà a me loro stanno profondamente simpatici. Grande questione, la serie ha soprattutto negli ultimi anni, secondo me, presentato i problemi che derivano anche dall'assenza di un testo a cui fare riferimento. È una questione bella e anche affascinante il primo adattamento che precede l'adattato, di fatto, della storia degli adattamenti televisivi, no? È come se ci fossero delle puntate su David Copperfield, prima della fine di David Copperfield o di Harry Potter. E dobbiamo vedere, perché dobbiamo ancora aspettare Martin Alvarco, Martin aveva detto che voleva arrivare a chiudere i suoi libri con un senso di malinconia, inesorabilità, come Il Signore degli Anelli. Saranno in grado di consegnarci lo stesso nella serie, dobbiamo vedere.